Le squadre di Alma Juventus Fano e Recanetese fanno il loro ingresso in campo agli ordini del signor Mansi di Nocello Inferiore. Alma Juventus Fano e Maglia Granata. Attenzione Giorgio Galli, il tocco verso Marolda, esce Ginestra e anticipa l'attaccante Lucano. Bala meglio dalla Recanetese con Gigli verso Marolda, attenzione Galli, gol. Era Galli, non Marolda, Galli che la mette dentro. Ancora giù Galli verso Gigli, il tiro, palla, a fil di palo, occasione. Sartori al limite, c'è Sartori, Sartori il tiro, Sartori, gol, Matteo, Sartori, 1-1. Nooo, Sivilla, 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 il tiro di Sivilla, il tiro è una telefonata verso il portiere Verdicchio. Ancora Nodari, mette nel mezzo, Lunardini al limite, il tiro di Lunardini, il tiro è la parata di Verdicchio. Lunardini parte, vediamo, e c'è, attenzione, traversa, incredibile, incredibile, la traversa. L'apparatissima di Verdicchio è la traversa. Vediamo però, c'è la Recanetese, il tiro, il tiro, addirittura nel finale la Recanetese va vicino al gol. Il fisco della direttore di gara finisce così, 1-1, una buona Recanetese, blocca l'Alma Juventus Fano, una Alma che nel secondo tempo gioca una ottima gara.